E' atto che i relatori e i rappresentanti del Governo rinunciano alla replica. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa la discussione sulle linee generali delle mozioni Vito, numero 1346, Cozzolino, numero 1384, Fiano, numero 1385 e Piras, numero 1386. Concernenti iniziative per il rinnovo dei contratti dei comparti dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, nelle quali intervengono le deputate di Eni, Polverini e Fabri. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Svolge infine un intervento di fine seduta del deputato Palese. La seduta termina alle 16.45 e con la lettura dell'Ordine del giorno della seduta dell'11 ottobre 2016 con inizio alle 10. La ringrazio, onoreolo Cirielli. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvare. Comunico che senza l'articolo 46,2 del regolamento, i deputati a Brignani, Angelino Alfano, Giochino Alfano, Amendola Mici, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonaccorsi, Bonifazzi, Michele Borlo Borletti dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Camani, Caparini, Capelli, Casero Castiglione, Antimo Cesaro, Costa, Dallia, D'Ambruoso, De Micheli, Del Basso, De Caro, Dell'Ai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Fantinati, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Giacchetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Goz, Grillo, Larussa, Locatelli, Lorenzin, Losacolotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pespi, Sicchio, Porta, Sprodani, Rampelli, Ravetto, Realacci, Ricciati, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Schiaffarotto, Scotto, Speranza, Tabacci, Tentori, Tofalo, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Vignale e Zanetti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. i deputati in missione complessivamente sono 93 come risultato dell'elenco depositato presso la Presidenza e sarà pubblicato nell'allegato aree a suo conto della seduta odierna. L'ordine del giorno rega la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 4008, disposizione in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallinamento retributivo nel settore agricolo e della binale proposta di legge numero 429, 2134, 3218, 3.398, 3.367, 3.379, 3.405, 3.580, 3.817, 4.046, 4.069. Avverto che lo schema arcante della ripartizione dei tempi è pubblicato nell'allegato aree a suo conto stenografico della seduta del 14 ottobre 2016. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno chiesto l'ampliamento, le commissioni giustizia e il lavoro si intendono autorizzate a riferire oralmente a facoltà di intervenire il relatore per la commissione giustizia onorevole.